E' il quinto tumore più diffuso nelle donne al di sotto dei 50 anni e i casi che hanno interessato le giovanissime dimostrano che il tumore alla cervice uterina si riscontra rispetto al passato anche in donne prossime ai 20 anni ed è per questo che chiedono sempre più spesso l'adesione al vaccino. Molte ragazze infatti non si sottopongono precocemente al pap test e gli inviti allo screening iniziano a 25 anni. Per la prevenzione, oltre a pap test già in uso dagli anni 80, dal 2000 in tutta Italia è entrato in funzione lo screening organizzato che consiste nella presa in carico di un cittadino con l'avvio di una lettera per eseguire gli esami in laboratorio e la verifica di eventuali lesioni. Ogni anno ad esempio l'area vasta 1 esegue uno screening a circa 15.000 donne, di queste oltre 450 vengono inviate ad un secondo livello per gli accertamenti dal ginecologo con coloscopie e per stabilire la necessità o meno di un intervento. Sono aumentati i numeri di soggetti che riescono a sopravvivere anche oltre 5 anni e addirittura con una levata percentuale anche oltre 20 anni rispetto alla diagnosi. Quindi diciamo che la diagnosi precoce consente di migliorare sia l'aspetto terapeutico ma soprattutto l'aspetto prognostico, quindi migliorare nel tempo la sopravvivenza e la qualità della vita. Si è sperimentata anche in una realtà che è quella di macerata l'introduzione dell'esame anche per l'HPV perché la maggior parte di queste neoplesie della cerviceterina sono legati ad alcuni ceppi di virus del papiloma virus e quindi di fatto l'accertamento anche dell'HPV in sede di BAPTES può diventare utile per migliorare gli aspetti diagnostici. Si stima che nel 2014 in Italia sono stati oltre 53.000 i tumori diagnosticati alla cervice uterina, cioè un caso ogni 100.000 abitanti. Ogni anno poi si registrano circa 2.200 nuovi casi. Questo tipo di cancro però se viene diagnosticato per tempo, oltre ad essere trattabile chirurgicamente, è molto sensibile alla chemioradioterapia, cosa che può consentire di ridurlo e poi far sì che si possa operare. Per fortuna, come dicono i medici, nell'area vasta c'è una buona risposta ai vaccini, mentre una maggior resistenza si riscontra nel comune di Fossombrone. In Italia inoltre la vaccinazione è stata rivolta anche ai maschi perché il papilloma virus, e cioè l'infezione che può trasformarsi in tumore, può essere trasmesso anche con i rapporti sessuali. Lo screening però non esclude la vaccinazione? No, infatti lo screening è complementare la vaccinazione e viceversa perché appunto come si è dimostrato, essendo la maggior parte delle neoplasie del collo dell'utero legate al papilloma virus, è chiaro che con la vaccinazione anti-HPV si va a prevenire a monte, alla radice, l'instaurarsi del carcinoma del collo dell'utero. Noi chiamiamo le ragazzine a 11 anni, cerchiamo di anticipare queste lesioni e di dare comunque già una protezione valida, dopodiché la seconda chiamata avviene nelle 18 anni. Quei genitori che hanno in qualche modo abdicato a questa vaccinazione debbano ripensare, parliamo di un vaccino contro un cancro, bisogna dire le cose come stanno. Quindi un vaccino sicuro, un vaccino valido, un vaccino gratuito, quindi ci ripensano questi genitori e comunque anche le stesse ragazze, perché le richiameremo a 18 anni, saranno maggiorenni, saranno in grado di decidere autonomamente se fare il vaccino, non dipenderanno più dai loro genitori.